Stare live in Bologna non si può che evitare, tra l'altro il Gallo presto insomma in qualche modo ritornerà sulle nostre frequenze e durante il nostro programma, vedo Carbo già molto preso dalla cosa, chi non lo sarebbe, chi non lo sarebbe. Un saluto agli amici dalla Lucani e alla Corte del Blasco che ci segue come sempre, quindi noi come sempre li salutiamo, li dedichiamo anche la canzone che ci ha chiesto Cesare Bocci. Certo, perché comunque anche lui è rimasto molto bene quando ha saputo che questa radio l'ha fondata Vasco Rossi, quindi il pericolato era perfettamente calzante.